Benvenuti ragazzoli, qui è Dalcan che parla. Abbiamo le note del PTR, cioè quello che ci dovremmo aspettare per quanto riguarda la stagione 4, quindi quello che loro vogliono, che noi conosciamo prima, affinché possiamo testare e valutare l'efficacia di questi cambiamenti. Queste note sono state fatte il 28 marzo, adesso andiamo subito a capire. Il primo Public Test Realms, quindi il PTR, per Diablo 4 è all'orizzonte e ti offre la possibilità di testare le prossime modifiche e le funzionalità del PTR. Vabbè, sarà disponibile dal 2 al 9 aprile per i giocatori con account Battle.net per PC, quindi ve lo ricordo ancora una volta, soltanto per PC con chi dovesse avere l'account Battle.net, ok? Lo scopo per il PTR è testare aggiornamenti e funzionalità insieme a te prima del lancio della stagione 4. Successivamente prenderemo in considerazione il tuo feedback dai tuoi PTR per apportare modifiche alla stagione 4 prima che diventi disponibile per tutti. La tua esperienza in Sanctuary è davvero sconvolgente, ecco una panoramica di ciò che devi sapere. Che sconvolgente lo sapevamo già. Allora, iniziamo a vedere cosa ci sarà. Quindi parleremo dell'itemizzazione, della rinascita dell'inferno in questo caso, della fossa degli artifici, degli aggiornamenti sullo scaling dei boss, le funzionalità offerte per i test, come fornire feedback, come installare il PTR, aggiornamenti delle classi e note compete sulla patch. Allora, partiamo dall'itemizzazione. Ci sono cose che già conosciamo, ok? Però voglio andare più nel dettaglio per cercare di capire cosa è stato spiegato e cosa invece è stato lasciato un pochino così. Aggiornamenti degli articoli di base, quindi abbiamo tre pilastri guida per i nostri aggiornamenti sulla classifica degli oggetti, la qualità rispetto alla quantità, gli oggetti migliori che hanno un percorso appunto di potere per migliorare a cui lavorare, quindi ci sarà un giornale, come vi dicevo l'altra volta, e naturalmente degli oggetti che saranno soddisfacenti e tu sia smanti da droppare. Quindi, cosa ci vuole? Numero ridotto degli affissi da 3 adesso a 2 sugli oggetti rari. Pool più piccolo degli affissi più potenti, affissi più rilevanti, esempio, gradi di una singola abilità principale, perché sappiamo che l'avranno aumentato, che ne so, se è una destrezza prima era 50, ma ce la mettono pure 80-90. Solo oggetti sacri nella fascia mondiale 3, solo oggetti ancestrali nella fascia mondiale 4. Vogliamo che tu e i tuoi demoni in Sanctuary li sentiate davvero. Nuovi affissi di posizionamento, quindi risorsa al secondo, risorsa su kill, colpo fortunato applica vulnerabilità, vita per colpo, gradi nell'abilità di base. Va bene, e questi ci siamo. Aggiornamenti vari. Gli oggetti leggendari rilasciati dal nemico di livello 95+, avranno sempre una potenza di oggetto di 925. Le gemme sono più semplici, più utili e hanno una, diciamo, coda di lavorazione molto più lunga. Va bene. Gemme ora hanno statistiche fondamentali e bonus più condizionali, sono state semplificate. Lo shard degli oggetti, la creazione e le ricompense sono state tutte ottimizzate, quindi la percentuale degli oggetti è stata significativamente ridotta. Meno tempo per lo smistamento e quindi più tempo per uccidere. Beh, questo è un classico perché noi ci lamentavamo sempre di perdere troppo, troppo tempo. Il costo in oro nel reroll degli oggetti è stato limitato, quindi adesso ci sarà un cap. Non dovrete più arrivare a milionate estreme. Dovrebbe esserci un cap, quindi, che bloccherà il tutto. Non so a quanti milioni, ma ci sarà. Prima ozione è consolidamento del materiale. Va bene, ho tolto qualcosa. Le anime dimenticate ora possono essere ottenute dai sui surri, come avevamo già detto, e sono una rarità globale anche degli elite. Alcuni unici ora verranno rilasciati a partire dal mondo 1 e 2, mentre tutti gli unici potranno essere droppati a livello del mondo 3. Gli uberi unici, adesso quindi quelli proprio che tutti vogliamo, sciaco, bla bla bla, potranno essere droppati dal livello 55 in poi, dal 925 sempre dell'oggetto. Quindi, buono. Chiaramente bisognerà capire se ci sarà una percentuale alta o meno, cosa che io dubito fortemente. Adesso andiamo al nuovo sistema di creazione degli oggetti. Questo nuovo sistema ti consentirà di aggiungere affissi ai tuoi oggetti d'alfabbro attraverso un oggetto riutilizzabile che può essere trovato dalla maggior parte dei contenuti del gioco, chiamato Temper Manuals. Questi sono classificati come il codice del potere, ad esempio risorsa, mobilità, eccetera. In base a quello che volete andare ad inserire, voi avrete la vostra classificazione. Facciamo un esempio, se volessi ottenere qualcosa in più in merito all'attacco dell'arma, magari andrei a cercare qualcosa sull'attacco. Una volta ottenuti, li conserverai per un uso illimitato, perfetto. Ogni manuale contiene una manciata di affissi, poi allegarne uno alla volta. Gli affissi possono essere rerollati fino al limite del reroll, del temperamento dell'oggetto. Un po' come si fa sulla Steepok, praticamente è il Forging Potential, quindi quello che vi permette di poter più volte andare a fare questo reroll, ma quando quel numerino arriverà a zero voi non potrete fare più niente. Gli oggetti ancestrali possono avere due affissi temperati di diverse categorie, quindi potrete inserirne una una parte o una un'altra. Affissi maggiori appaiono solo sugli oggetti leggendari e unici ancestrali. Sono versioni più potenti dei normali affissi, con un moltiplicatore 1,5x sul tiro massimo dell'affisso, questo è tanta tanta roba. Un oggetto con un affisso maggiore sarà immediatamente evidente con un segnale audio unico, quindi lo riconosceremo. Così come dall'1 al 4 accanto al nome dell'oggetto, che indica quanti affissi sono più alti rispetto agli altri. Quindi quando vedremo quello con 4, chiaramente sarà quello più alto. Ad esempio è il mancestrare 2, ogni affisso su un oggetto ha una probabilità di essere maggiore nei livelli del mondo 3 e 4. I giocatori non possono incantare con un affisso superiore, possono solo essere trovati. Quindi quegli affissi superiori che andrete a trovare, non è che li potrete fare l'enchantment, quindi il reroll su quello, quello non si potrà fare. Quelli potranno essere solo droppati, vi raccomando. Ora andiamo a vedere quello che, vabbè quello traduce capolavoro, ma è il master working. Un sistema di creazione a fine partita per potenziare gli oggetti, utilizzando i materiali raccolti nel pit. Il pit vi ricordo che sono i varchi che adesso potremmo andare a fare. Migliora il valore dei tuoi attuali affissi. Ci sono 12 gradi di potenziamento. Ogni 4 ragazzi, un singolo affisso viene potenziato in modo massiccio, quindi automaticamente pam, sale. Altri gradi aumentano leggermente il valore di tutti gli affissi. Poi abbiamo sul codex del potere degli aggiornamenti. Io ve l'ho detto che questo secondo me è una delle cose migliori. Tutti gli aspetti leggendari ora compaiono nel codice del potere, così potrai concentrarti sulla ricerca di altri oggetti invece di gestire il tuo inventario. I risultati leggendari più alti che recuperi verranno memorizzati nel tuo codex, quindi aumenteranno la portata dell'affisso leggendario in base al livello dell'oggetto. Se è normale, se è sacro e se è ancestrale, quindi voi prendete tutto, li andate a inserire nel codex automaticamente, semplicemente shardandoli, e poi loro aumenteranno il loro tier. La portata della maggior parte degli affissi leggendari è stata aumentata, l'interfaccia utente è stata rinnovata e ora include la ricerca manuale per le parole chiave. In più si potranno aggiungere gli aspetti leggendari tra i preferiti, per trovarli banalmente più facilmente. Ora vediamo cos'è la rinascita dell'inferno. Ragazzi, sono le maree infernali. Una marea così bella che l'abbiamo fatta due volte. Attenzione, ecco le novità del rinnovamento dell'Heltide per portare la profondità dell'inferno nella superficie di Sanctuary. Cos'è la minaccia della marea infernale? Mentre combatti attraverso l'Heltide genererai minaccia. La sua quantità sarà determinata dalla difficoltà del mostro e dalla frequenza con cui ti assicurerai i doni torturati all'interno dell'Heltide. Quindi morire ripristinerà la tua minaccia. Quindi, come sempre, non bisogna morire. Esistono tre livelli di minaccia al Tide, ciascuno dei quali aumenta il pericolo e la frequenza delle imboscate dei mostri. A livello 3 diventerai marchiato infernale. Quindi raggiungere la minaccia massima avvierà una breve frenesia di imboscata con la massima densità nemica. L'imboscata si concluderà con l'ultima progene di Hellborn, un agente dell'inferno immensamente potente risuscitato dalle anime torturate dei campioni più potenti di Sanctuary. Esistono cinque varianti che rappresentano ciascuna classe in Diablo 4. Dopo aver attivato l'imboscata di Hellborn, la tua minaccia verrà ripristinata. Queste maree infernali le stanno rivisitando, il che è un bene, poiché servono tantissimo per il discorso dei materiali per Duriel e quant'altro. Lasciamo stare la parentesi Duriel, diciamo. Più che altro, se dovete starci molto, la parte importante e fondamentale è quella di sbrigarvi. Ecco, se riuscite a ottenere maggiori ricompense, per voi è un bene, ma per ottenere maggiori ricompense dovrete uccidere più mob. E questo è un sistema che potrebbe funzionare. Rituale maledetto. I cuori funesti possono essere guadagnati principalmente aprendo i forzei dei doni torturati e possono essere utilizzati nella posizione del rituale maledetto. Una scena di sangue scioccante, il rituale maledetto è la testimonianza definitiva degli sforzi inquietanti che i frenetici cultisti si spingeranno per placare i loro oscuri desideri. E' qui che puoi iniziare il rituale maledetto, va bene. Deposita 3 Baneful Hearts per iniziare il rituale e verrai assalito da una fitta imboscata demoniaca, quindi ancora una volta. Gli altri giocatori della tua sottozona verranno avvisati del tuo rituale iniziato se desiderano unirsi a te nella battaglia. Questa imboscata culminerà con l'arrivo di Blood Maiden, una creatura demoniaca immensamente potente che offrirà una grande ricompensa alla sua morte. Che poi immensamente potente, poi verrà sempre one shotata dal barbaro. Adeguamenti a livelli mondiali 1 e 2, quindi andiamo a vedere cosa è cambiato. Per portare i giocatori del vivo di Hell's Hides molto prima del loro viaggio complessivo del personaggio, il PTR vedrà questi imminenti aggiustamenti per contribuire a rendere Hell's Hides più divertente e gratificante nei livelli 1 e 2. Tutti i doni torturati con gli scrini misteriosi, nessun boss vagante e meteori ambientali, meno densità dei mostri nel complesso rispetto ai livelli del 3 e del 4, che chiaramente altrimenti diventerebbe un problema quando ancora non avremmo il nostro equip. La fossa degli artefici. Circolano voci secondo cui nel profondo della rete di sotterrani che attraversano il nord di Sancturmi si trovano delle strane varietà di minerali, va bene, perfette per creare armature eccezionali con tecniche auradriche segrete. Quindi dobbiamo andarle a prendere. Entrando nel livello mondiale 4 riceverai una missione prioritaria per completare un dungeon da incubo di livello 46, quindi questo pit inizierà dal 46. Al termine inizierai a raccogliere Ranshard durante le attività di fine gioco. Raccogli abbastanza Ranshard per attivare l'obelisco a Serrigar. L'attivazione dell'obelisco ti manderà a The Pit. Il tuo obiettivo sarà uccidere abbastanza mostri prima che scada il timer di 10 minuti. La morte di ogni giocatore toglie tempo all'orologio. La prima morte toglie 30 secondi, la seconda ne toglie 60, la terza morte e le successive tolgono 90 secondi. Ecco questo è quello che succedeva in Diablo 3. Un pochino diversamente ma è quello che succedeva in Diablo 3 con i varchi maggiori. Ma questo ci servirà non come appunto in Diablo 3 che andavamo a potenziare le gemme ma per potenziare il nostro equip e portarlo a livello 12. Se ci udi abbastanza mostri apparirà un portale che ti porterà nell'area del boss. Uccidere il boss prima dello scadere del tempo ti garantirà materiali prodigiosi e sbloccare il livello successivo del The Pit. Uccidere il boss da 4 a 6 minuti di anticipo ti garantisce uno sblocco di livello aggiuntivo. Significa che magari dal 46 non passerei dal 47, magari passerei dal 48 o al 49. Uccidere il boss con 6 o più minuti in anticipo ti garantisce 2 sblocchi di livello aggiuntivo. Esattamente. The Pit ha centinaia di livelli di difficoltà. Centinaia? Se il timer della maestria scade prima che tu abbia finito di correre attraverso la fossa, riceverai comunque il bottino ma non riceverai alcun materiale prodigioso, il che è un problema. La fossa può essere affrontata con gruppi fino a 4, con il giocatore che ha aperto la fossa che riceverà la maggior parte dei materiali, giustamente. Solo il giocatore che ha aperto la fossa ha la possibilità di ricevere i materiali utilizzati per evocare gli echi tormentati. Quindi nessuno potrà scroccare in un certo senso. Anche è vero che poi, volendo, potrebbero anche portarli con sé per farli, quindi non ci sarebbe un grosso problema. Aggiornamenti sullo scaling dei boss. L'eco di Andariel si unisce alla classifica del nostro PTR di Diablo 4 della stagione 4. Nella stessa fascia di suo fratello Duriel, con lo stesso tasso di drop di Uber Unic, quindi dropperà nella stessa maniera. Con un mix di ombra, fuoco, fulmine e il suo iconico attacco beleno, Andariel è pronta ad affrontare tutti coloro che osano immaginare la sua fine. Quindi ragazzi, un nuovo Duriel. Le parti di evocazioni possono essere prese dalla bestia di ghiaccio e Lord Zir, quindi dobbiamo andare prima a uccidere loro per poter poi evocare lei. Gli echi tormentati di tutti i boss della scala possono essere evocati con le pietre Stijan, ottenute nelle profondità della fossa, quindi dovremmo comunque andare lì. Le pietre Stijan sono necessarie insieme a una maggiore quantità di materiali di evocazione, ma non temere, rilasciano anche più ricompense. Gli echi tormentati saranno a livello 200, quindi molto alto. Tutti gli oggetti rilasciati sono di livello 925, vorrei vedere. Sconfiggere il tuo primo echi tormentato rilascia una scintilla risplendente come ricompensa per la prima volta. Ecco, vincolata all'account. Quindi la scintilla risplendente è quella che vi servirà per craftare un Uber unico a vostra scelta. Ve ne serviranno adesso 4 perché sono state ridotte. Comunque ci sarà sempre il classico giro di materiali particolari che bisognerà avere per poi andare a cercare di distruggere lei. E poi avere per la prima volta la scintilla risplendente e poi magari riuscire anche volendo a prendere un Uber unico. Funzionalità offerte per i test, quindi cosa adesso potremo fare con il PTR? Avere il server per il PTR nelle nostre regioni più grandi, Nord America, Europa, Corea, Giappone, Sud America, Australia, una volta effettuato l'accesso tramite Butternet, il tuo account riporterà i seguenti progressi basati sull'account. Quindi questo è quello che avremo quando entreremo. Il completamento della nostra campagna, le cavalcature e i punti abilità, la nebbia di guerra, il bonus delle statistiche dell'altare di Lilith, queste cose ce le ritroveremo già. Poiché molte delle modifiche si applicano all'endgame e verranno offerte le seguenti funzionalità. Potrai potenziare istantaneamente il tuo personaggio a livello a 100, quindi non dovrai minimamente perdere tempo a livellarlo. Entrando nel PTR arrivando a Kiovashad ci sarà un NPC chiamato potenziamento PTR, avranno solo l'opzione del dialogo ovvero portami al 100. Dopo il potenziamento riceverai anche 100 milioni in oro, 1000 oboli, due set casuali di equipaggiamento ancestrale, potere di 220, pozioni migliorate, Glyphi eroi completamente sbloccati, fino a 10 e manual sample che sono quelli là classici, abbiamo detto prima, quindi specifici per classe. Importo base di tutti i materiali di consumo, non include materiali per le risorse guadagnate specificatamente per masterworking, prismi sparsi e scintilleri splendenti grazie al cavolo. Vengono concessi materiali per entrare nella fossa e nei dungeon degli incubi. Meccanica del sistema di classe completata, ad esempio incantesimi per la strega e quant'altro, va bene? Questo potenziamento può essere ricevuto con tutti i personaggi sul PTR e puoi scambiare tra i personaggi secondo la necessità, questo mi sembra una cosa giusta. La nebbia della guerra ora sarà completamente diradata, inoltre indipendentemente dal fatto che tu scelga di potenziare il tuo personaggio del PTR, il tasso di ottenimento degli oggetti sarà raddoppiato, quindi dovremo fare la metà di quello che stiamo ricevendo. Alcune cose mancheranno intenzionalmente, in modo da poter testare i flussi che vogliamo tenere d'occhio con il codice del potere non sarà completamente sbloccato. Questo è un peccato. Vabbè qua spiega chiaramente come possiamo mandare i nostri feedback. Qua come installare il PTR, quindi si può installare semplicemente dal client. Aggiornamenti delle classi e noti della patch in generale. Ci sono molti cambiamenti in arrivo, va bene? Aggiornamenti di classe e di grande impatto, stiamo cercando di spostare l'ago della bilancia, aggiornando i sistemi e progetti invece di limitarci ad aumentare e diminuire semplicemente i danni della salute. Stiamo rendendo più praticabili i danni leggendari e danno fisso. Al momento non crescono al ritmo che vorremmo, quindi il danno flat che vi dicevo nell'altro video. Quindi ora crescono con il danno dell'arma. Stiamo davvero interessati a vedere come andrà a finire. Questo vabbè l'abbiamo detto. Rendere i progetti più utili in generale in modo da poter creare più connessioni per costruzioni. Se ami Death Devils e Subbarbarians, ad esempio, ma se sei frustrato di non riuscire a creare delle build praticabili per mantenerli nella profondità del gioco. Quindi stiamo apportando ampie modifiche per rendere possibile una build del genere e così via. Vogliamo davvero che tu possa giocare come tu vuoi e promuovere la vera diversità di costruzione. Allora ragazzi, questa è una panoramica generale di quello che accadrà nel PTR dal 2 al 9 aprile. Perché Blizzard dà la possibilità a noi di testare ulteriormente, perché l'abbiamo sempre fatto ma lo faremo in modo diverso, un nuovo sistema. Il sistema che sta creando per cercare di bilanciare un pochino il gioco. Bilanciarlo per quanto riguarda il crafting e l'itemizzazione. Bilanciarlo per quanto riguarda le classi, perché si sa che c'è un profondo distacco attualmente tra alcune classi. Vedi il barbaro che sta un po' su. Ecco, tutte queste cose sono molto importanti per cercare di creare un gioco. Non si parla ancora di un endgame vero e proprio, a parte del discorso di prendere materiali per fare dei dungeon o con quei materiali, poi farsi in realtà le armature. Quindi sappiamo ben poco se non per quanto riguarda anche Andariel e quindi un ulteriore boss da farmare. Vedremo cosa uscirà. Io l'unica cosa che vi dico sempre è manteniamo l'hype basso basso perché ultimamente non è il caso di farsi prendere dalla foga nonostante ci siano dei miglioramenti. Perché questi lo sono e possono andare nella giusta direzione, ma finché tutto il gioco possa prendere una buona piega è probabile, come vi dico sempre, che bisognerà aspettare la vera e propria espansione. Perché stanno tenendo tutta la ciccia per loro perché altrimenti l'espansione poi non risalterebbe così tanto come dovrebbe. E quindi non farebbe quell'hype, quello scalpore, quel brividino sotto al fondo schiena che tanti vorremmo sentire. Quindi sì, stanno incalzando un pochetto, stanno cercando di migliorarsi su certe cose. Contentissimo perché stanno prendendo una buona strada. Però ancora manca molto affinché questo gioco possa divenire completo. Perché per noi che l'abbiamo giocato ormai svariate ore, anche aggiungere un sistema di crafting e di attimizzazione che funziona, che per quanto mi riguarda è una cosa stupenda, però poi deve esserci quel qualcosa che mi intrattiene in game. Quindi mi devi comunque mantenere sul gioco con contenuti che mi facciano divertire, scoperte, segreti, tutte robe che io voglio trovare in game. Quindi mi auguro che questo inizio possa portare a qualcosa di più. Inoltre c'è stato un importante nerf anche sul Barbaro che se vorrete lo potremmo approfondire ancora meglio. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per adesso la cosa che vi interessa sapere è che sì, hanno cercato di correre ai ripari anche in quella determinata situazione. Fatemelo sapere se vi interessa. Signori, come sempre io vi ringrazio per aver seguito il video. Lasciate il like, non scordate di lasciarlo e iscrivetevi al canale per contenuti come questo e per altri, soprattutto sui GDR perché noi siamo molto incentrati su questa tipologia di giochi. Vi aspetto anche in live tutti i pomeriggi che stiamo portando Dragos Dogma 2. Grazie ancora a tutti quanti ragazzoni, mi è da Dark Knight Tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!